Sono Francesco, sono appassionatamente architetto e insieme a Davide e Matteo un gruppo di collaboratori faccio parte dello studio La Prima Stanza. Ci occupiamo di architettura alle varie scale, dalla macroscala urbana alla microscala dell'architettura dell'interior design. Qual è l'aspetto più interessante del mio lavoro? È che io credo proprio il coniugare discipline scientifiche con discipline umanistiche. In fondo l'architettura è proprio arte e scienza a servizio della società, è arte e scienza per accomodare le varie vite all'interno della società. Qual è l'aspetto meno piacevole del mio lavoro? Io direi il più complesso, è il dover fare architettura contemporanea in un'azione come l'Italia, appunto, che dopo aver insegnato al mondo l'architettura e l'estetica dell'architettura, si trovi oggi con l'architettura contemporanea non proprio del tutto pronta, c'è bisogno di ancora un po' di tempo. Qual è stato il momento più difficile della mia carriera? Io direi subito dopo la laurea universitaria, quando ho dovuto in qualche modo distaccarmi da quello che era un ecosistema a cui ero molto affezionato, per creare una nuova storia, per avvicinarmi a un gruppo che sono tuttora appunto i miei compagni di viaggio, i miei compagni di vita professionale. Qual è stato il momento più gratificante della mia carriera? Anche qui un tuffo nel passato, 2011, menzione d'onore speciale per un quartiere residenziale a Copenaghen per un concorso internazionale. È stato bellissimo poter celebrare questo premio a Copenaghen, la capitale dell'architettura contemporanea. Certo, col tempo ci sono seguite i vari altri premi e vittorie, ovviamente, in concorsi nazionali e internazionali che facciamo, ma quello essendo stato il primo è quello con più patos, con più emozioni. Per quale motivo vale la pena diventare un architetto? Ecco, quando 8 mila anni fa l'uomo è passato dall'essere nomad ad essere sedentario, acquisendo quindi gli strumenti per coltivare i campi, allevare il bestiame, crearsi il proprio rifugio, la propria abitazione, ecco lì è diventato profondamente architetto. E in qualche modo è come se avesse invertito il concetto darwiniano di evoluzione, cioè non era più l'uomo che si adattava al contesto, ma era l'uomo che aveva gli strumenti per adattare il contesto ai propri bisogni, per creare il mondo dei propri sogni. Ecco, questo è una cosa fantastica, è un grande potere, ma è anche una grande responsabilità, ovviamente, nei confronti del proprio pianeta e del proprio contesto. Ecco, allora io credo che valga la pena di diventare un architetto proprio per impersonificare, per incaricarsi di questo grande potere che però insieme rappresenta una grandissima responsabilità.